Quindi abbiamo l'ambito del servizio civile, l'area della tutela dei minori ed educazione dei giovani, l'area dell'inserimento dei giovani al lavoro, l'area dei migranti e integrazione dei migranti e l'area formazione e supporto alla rete associativa. Ecco queste cinque aree hanno raccolto come dicevo 500 contributi rivisitati, accompagnati e mecciati, nel senso più breve del termine, i contributi che hanno ricevuto maggior consenso sono stati descritti soprattutto nelle linee di azione. Quindi è un materiale prezioso perché è un materiale che raccoglie l'Italia salesiana, fa una sintesi ed evidenzia le cose che hanno ottenuto maggior consenso. Quindi è una base da ascoltare, da tener conto nelle nostre programmazioni, nelle nostre progettazioni, nel nostro modo di agire e di operare. Quindi davvero ci tenevo a ringraziare loro, l'ufficio nazionale, i coordinatori, tutti coloro che hanno partecipato a questo splendido processo che all'inizio non è stato così semplice attivarlo, è stato molto faticoso come ogni novità, le novità spaventano, però è stato bello perché ho visto anche molti interessi, molta partecipazione e quindi quello ci ha aiutato anche a rimodellare, a disegnare il documento. Il documento aveva un'ambizione di essere un documento programmatico, ecco magari questo potrà avvenire fra qualche anno, adesso è un documento di restituzione perché raccoglie le maggior linee di consenso e le offre ed è un materiale sul quale riflettere in vista di un documento magari un po' più preciso, un po' più programmatico. Quindi è un buon documento, un bel documento, organizzare la speranza ci dà un bel messaggio e come non citare, e poi passo la parola ad Andrea Farina che può, come vedete qui alle mie spalle, diverse sedie vuote quindi sarà un bel panel ricco e scoppiettante, e come non ricordare l'ispiratore di questa frase, organizzare la speranza che è Don Torino Bello ricorre il trentennale della sua nascita al cielo e Don Torino Bello diceva proprio questo, non basta sperare, c'è bisogno di organizzare la speranza, una speranza concreta, vicina, solidale, dialogante, che possa permettere al giovane un futuro e un presente, come ci ricordava Don Marco nel suo intervento, liberante, un futuro inclusivo, un futuro sostenibile. Ecco, quindi credo che questo documento possa aiutarci come mappa nell'orientare le nostre scelte. E allora passo la parola ad Andrea Farina perché sarà lui appunto a condurre questo nostro panel. Grazie. Allora, grazie a Francesco, ancora cinque minuti di pazienza che presentiamo in modo un po' più sistematico questo documento e poi inviterò anche i delegati, i presidenti per poter fare questo panel che così come l'abbiamo pensato insieme a tutte le giornate è un panel che cerca di scendere un po' più a terra rispetto ai contenuti che ci siamo detti all'inizio. Anch'io poi avrò modo di ringraziare un po' tutti quelli che hanno con me fatto questo percorso, l'ha ridetti già Francesco, Davide Andrea, Isabella, Riccardo, Micol, lo stesso Francesco, Don Rafael. Senza di loro questo percorso veramente non sarebbe stato lo stesso e poi dopo una parola anche ai delegati che chiameremo qui perché in qualche modo i delegati o chi interverrà oggi sono quell'anello importante anche di trasmissione di questo progetto. Cinque minuti di attenzione perché ovviamente essendo questo documento un documento di restituzione in questi giorni ne sentirete parlare molto, forse fino un po' anche alla noia, però al di Francesco ha detto che è un buon documento, questo lo lasceremo dire all'Assemblea e a tutti voi, è comunque un documento di restituzione ed è una fotografia che noi abbiamo fatto senza nessun intento accademico. Parto subito senza voler togliere niente a Don Tonino Bello, a Papa Francesco e a Don Bosco e sapete chi è lui? Nessuno sa chi è lui, andiamo avanti. Lui è Henry Beck, è colui che ha inventato la mappa di Londra, nel 1800 Londra ha avuto un problema perché con l'urbanizzazione le persone non prendevano la metro, avevano paura di andare in metro perché c'era una paura di andare sottoterra e Londra viveva un problema serio perché non era in grado di poter portare queste persone a bordo. cosa ha fatto? Lui ha inventato quella che oggi è la mappa più usata del mondo e che ha avuto praticamente cinque versioni, se andiamo avanti questa è la mappa di Londra che è molto sistematica e lineare. Cosa hanno fatto quelli prima di Beck? Quelli prima di Beck nel 1896 hanno fatto queste mappe, questa è la prima dove disegnava in bianco e nero Londra e c'erano le vie principali e nessuno continuava a salire. Poi che ha rifatto? Dopo di lui hanno fatto una mappa identificando meglio i colori, le linee, era ancora troppo realista. Terza mappa nel 1920, fanno questa mappa, dicono aggiungiamo gli fiumi, aggiungiamoci le zone, nelle curve, nessuno saliva in metro, avevano tutti paura di andare in questo luogo sottoterra oscuro e quindi stava diventando serio il problema dell'urbanizzazione. Beck che cosa ha fatto? La mappa di Beck nel 1933 ha fatto questa mappa. Questa mappa Beck l'ha fatta, ovviamente ve la faccio in modo molto sintetico, facendo tre cose. Tre cose. La prima cosa, si è allontanato dalla realtà, ha detto se io faccio una mappa realistica a cui non sale nessuno perché si mettono paura e quindi Beck si è allontanato dalla realtà, ha disegnato una mappa semplice e chiara che non è rappresentativa della realtà perché la mappa, così come la conosciamo, verticale e orizzontale, non è la realtà, non rappresenta i fiumi e poi ha fatto una sintesi della complessità. Grazie a questa mappa hanno risolto un problema serio e quindi le persone in qualche modo si sono fidate e sono andate sulla metro. Ho utilizzato questo stratagemma per dirvi che noi in qualche modo abbiamo, senza voler nulla togliere al compito che ha fatto Beck, abbiamo cercato attraverso questo documento di fare una mappa il più possibile, semplice e chiara e che sia rappresentativa della realtà ma che in qualche modo ovviamente con tutti i limiti mette insieme la sintesi di quella che è la complessità dell'Italia salesiana e nessuno ha la pretesa di ridurla ad unum però ci siamo allontanati con la cosiddetta cabina di regia, comitato scientifico, con un gruppo e abbiamo riflettuto insieme a voi per capire che tipo di mappa potevamo disegnare. Quindi che cosa abbiamo fatto? Attraverso questo processo abbiamo cercato di proporre una grammatica comune capace di interpretare le sfide eterne, cioè l'obiettivo di questo documento di restituzione è quello di dirci, di dare delle risposte rispetto al primo panel e quindi abbiamo cercato di restituire un contributo in termini di prospettive ai sei territori dell'Italia salesiana. Il processo ha permesso di fermarci, di coinvolgere chi quotidianamente affronta le sfide, dei bisogni sempre più crescenti e di stare sui territori soprattutto per, come diceva Don Francesco, confrontarci e ascoltare. Ovviamente abbiamo adottato insieme alla cabina di regia un modello di tipo partecipativo basato sul coinvolgimento e la partecipazione delle attività, delle opere e d'associazioni nella logica di promuovere una riflessività congiunta. Non abbiamo detto ridisegniamo la nostra identità dall'alto, ma abbiamo detto no, lo rifacciamo insieme, lo facciamo in modo di definirlo insieme, di avere una visione comune e in qualche modo abbiamo pensato di farlo attraverso un dibattito complessivo tra di noi. Ovviamente l'idea non è quella di dire dal prossimo anno, da settembre si fa così, ma di incominciare ad avere una visione comune su questa area dell'impegno dei salesiani. A livello operativo siamo rimasti sulle cinque aree del bilancio sociale, quindi non abbiamo inventato altre aree e siamo rimasti sulle cinque aree di intervento, il servizio civile, la formazione e comunicazione della rete salesiana, la tutela dei minori, l'accoglienza e l'inserimento. Ogni area l'abbiamo ritradotta in tre sfide, che erano un po' il lavoro che abbiamo fatto attraverso il metodo World Cafe in giro per l'Italia. Nel documento, nel capitolo metodologico, tutte queste fasi che vi sto dicendo sono tutte ben descritte per cui non mi dilungo oltre. Allora, qual è stato un po' il metodo? Così diamo anche un po' la restituzione. Abbiamo fatto incontri sui territori, che è stato, ovviamente dopo il Covid abbiamo detto non possiamo non incontrare le persone perché è un elemento importante, ma abbiamo attivato il percorso su due livelli, l'incontro territoriale e la piattaforma digitale. Su questo per esempio sarà interessante fare una verifica perché per esempio la piattaforma digitale che è stato uno strumento per noi importante non è stata così vincente come gli incontri territoriali, quindi molto probabilmente noi dobbiamo anche riflettere su come operiamo digitalmente come realtà associativa in Italia, come strumento dico. Questa piattaforma che cosa ha permesso? Ha consentito durante l'intero percorso di restituire alla rete di Salesiani Vigil Sociale la trasparenza dell'intero processo, favorire l'approfondimento dei suoi documenti guida, alimentare i contributi del documento. È ancora attiva e quindi su questo potete benissimo intervenire. Dal processo partecipativo, qualche numero, abbiamo raccolto circa 451 contributi durante gli incontri territoriali, 50 contributi dalla piattaforma digitale e il percorso, come diceva Don Francesco, ha portato ad elaborare delle linee di indirizzo condivise per ogni abito di intervento. Quali sono secondo noi gli elementi più importanti di questo documento di restituzione? Sono due i paragrafi più importanti, dal processo partecipativo e le linee di azione condivise che sono quelli sui quali voi lavorerete, perché lì dentro c'è quello che voi avete detto, abbiamo cercato il più possibile di mettere tutto e le linee di azione sono quelle che voi avete detto in modo più condiviso. Quindi le linee condivise costituiscono una base maggioritaria culturale di visione e di azione da ascoltare, una base che viene messa a disposizione per riflettere e costruire insieme comunità solidali. A partire dai documenti abbiamo quindi fatto questo documento che in qualche modo si chiama documento di restituzione ed è allegato alla relazione di missione del 2022 e che verrà votato insieme al bilancio. Ultimo punto, sapete quando qui suonano le campane a Maria Osilatrice sono forti, questo un po' rappresenta il nostro percorso, tutti gli incontri sono tutti numeri che potete vedere nel percorso, andrei solo all'ultima, l'ultima che dice questa, che è un pochettino una piccola sintesi prima di lasciare poi la parola ai nostri interlocutori privilegiati. La prima è che la cabina di regia ha registrato sostanzialmente una consapevolezza della rete, dal sud al nord Italia passando per il centro abbiamo visto una grande consapevolezza di stare dentro un tessuto associativo forte, una rete caratterizzata anche carismaticamente, non una rete qualsiasi, è quindi una rete che è caratterizzata da un'identità salesiana forte, vedrete nei documenti emerge molto questo aspetto dell'identità carismatica, la novità, la complessità, questo è un tema forte per noi, la necessità, il desiderio, il bisogno di rilanciare processi generativi e innovativi all'interno delle comunità, molti ce l'hanno chiesto di questa esigenza di rinnovamento, la forza di Salesiani per il sociale che risiede nel suo essere una comunità valoriare ecosistemica nella sua capacità di rappresentarsi in modo unitario nei confronti delle istituzioni, nella sua vocazione di laboratorio permanente di apprendimento, di progettazione sociale e valorizzazione dei giovani e delle loro competenze. Anche qui abbiamo visto che laddove lavoriamo insieme e riusciamo anche a rappresentarci meglio rispetto alle istituzioni abbiamo una forza tutta nostra, laddove siamo divisi questa forza e è meno valorizzante. Ovviamente, lo diceva anche Don Stefano all'inizio, questo è un elemento importante, siamo consapevoli che siamo una rete che accoglie mentre al centro i giovani più poveri sempre più attraverso professionalità educativa e questo è un altro elemento importante che lo dice spesso anche Don Roberto Dal Molin, quest'area dell'impegno sociale dei Salesiani in qualche modo coinvolge le cosiddette professioni di cura, quindi gli educatori hanno competenze diverse rispetto a quelli che generalmente troviamo anche negli oratori, quindi c'è tutto un aspetto da valorizzare che sono le professionalità educative e chiudo, da molti, moltissimi territori è uscita la richiesta di uscire da chiusure oppure ferma al mantenimento delle proprie posizioni e quindi molti ci avete chiesto delle competenze capaci di attivarci anche verso percorsi di sviluppo a prova di futuro, pragmatici e trasformativi perché rispetto a quello che dicevamo prima, mi confrontavo prima anche con Riccardo e anche in tutto il percorso con Isabella e Vita Andrea, noi abbiamo bisogno anche di strumenti e di formazione per essere in grado di mettere a terra questi percorsi perché non si inventano i percorsi, noi abbiamo già tante professionalità però è necessario che queste professionalità vengano implementate. Detto questo chiamo subito Don Massimo, Don Emanuele, Don Stefano e così abbiamo un momento nel nostro panel. Don Domenico? Bene, grazie. Eccoci, gli altri non vengono, eccoci. Don Domenico. Allora non so se tutti li conoscete perché noi diamo per scontato che conosciamo tutti, allora Don Emanuele De Maria è il delegato di Pastorale Giovanile dell'Italia Centrale, Don Domenico Lovarà, l'incaricato dell'immaginazione, ovviamente dico solo uno dei tanti titoli che ognuno di loro ha, l'incaricato dell'immaginazione del disagio della Sicilia, Don Stefano Mondini, il presidente del comitato, Piemonte, Don Massimo Zagato, delegato di Pastorale Giovanile della Veneta, Don Davide della Lombarda, incaricato dell'immaginazione e Don Giampaolo Roma che è delegato di Pastorale Giovanile ma che è anche ispettore. Allora io ho un ringraziamento, vabbè io adesso ho qui, tra i tanti titoli, no Stefano? Ispettore nominato, vabbè per me c'è la missio canonica, cioè nel senso lui già è stato nominato, ancora non è in carica. Io voglio con loro fare un ringraziamento speciale perché hanno un ruolo molto delicato, perché al di là del fatto che ci siamo sentiti prima, durante e dopo e anche nella fretta della stesura, io me ne scuso, l'ho detto anche a Don Francesco, l'ho dati per scontati, perché loro sono una presenza scontata per noi rispetto a questo, quindi sempre impegnati, in realtà sono la vera cabina di regia della messa a terra di questo percorso. e li ringrazio per tutto quello che fanno e anche per il ruolo che hanno avuto molto attivo nella preparazione di questi incontri, negli incontri stessi e dopo gli incontri. Allora con loro rifletteremo, ovviamente qui questo panel è previsto come una restituzione di questo percorso visto da loro e li abbiamo chiamati a rispondere a due domande sostanzialmente, il primo dal documento di restituzione quali sono secondo loro gli elementi di ricchezza ma anche di criticità rispetto a questo documento e poi la seconda domanda ve la dico dopo, così creiamo un po' di suspense e ognuno di loro ha circa 8 minuti per rispondere a questa domanda che non è semplice e il loro punto di vista dal documento rispetto a questi elementi. Siete liberi? Chi vuole iniziare può iniziare, non ci siamo dati una scaletta sull'intervento. Il decano, Stefano, giustamente. Lo volevo dire ma non volevo togliere spazio a nessuno. Buona giornata a tutti. Ecco, ho fatto i compiti o meglio qualcuno ha fatto i compiti per me cercherò di essere didattico e non fare perdere tempo. Allora, sulla prima panel se posso, noi abbiamo un po' diviso i punti di forza che riscontriamo all'interno della nostra realtà e del nostro territorio e nella seconda parte invece i punti di debolezza. Per quanto riguarda la prima parte sul servizio civile si cerca di... direi che c'è una buona formazione per i ragazzi del servizio civile una attenzione, una cura sostenendoli anche nelle fragilità una coprogettazione con le figlie di Maria Ausiliatrice una cura e un confronto con gli OLP anche l'istituzione quest'anno di un tavolo per poter ripensare sia l'accompagnamento che è l'aspetto formativo e anche una maggiore attenzione negli anni su chi sono gli OLP. I punti di debolezza è forse proprio l'OLP a volte preso tra mille incarichi e non sempre formato adeguatamente dall'altra parte una maggior presenza nei territori forse del coordinatore dello SCU che segue molto bene ma forse avrà bisogno di un tempo per accompagnare anche sul territorio e poi la mancanza di giovani da noi un po' questa necessità forse sì una maggior pubblicità di che cos'è il nostro servizio però anche una precarietà di giovani che sono disposti a dedicarsi al servizio civile. Per quanto riguarda la seconda sfida formazione e comunicazione una programmazione che sta avvenendo tra pastorale giovanile Selesiani per il sociale Iusto e Crocetta per una formazione più adeguata dove si cerca di portare tutta la complessità della persona e un secondo elemento un mettere al centro l'identità carismatica nella formazione che ordinariamente avviene sempre di più tra Selesiani laici vista come una continuità e un'omogeneità di lavoro. I punti di debolezza la comunicazione siamo un po' in difficoltà forse ad agganciare i giovani proprio all'interno dell'aspetto comunicativo conosciamo forse ancora troppo poco i loro strumenti e il senso di appartenenza l'appartenenza associativo in questi ultimi anni si sta cercando di rigenerare l'importanza di lavorare in rete di restare uniti e anche di portare un pensiero più condiviso soprattutto nei tavoli. Terzo la tutela dei minori ed educazione dei giovani sicuramente c'è una storia che ci precede e una forte lavoro di confronto con le altre realtà con il sistema pubblico con alcune anche realtà di eccellenza sul nostro territorio c'è comunità che cercano di uscire dalla referenzialità questo è un altro aspetto positivo e la formazione degli operatori c'è una cura ci sembra sempre più adeguata. I punti di debolezza invece ci siamo detti che forse è necessario fare una mappatura con il delegato di marginazione e disagio per avere più contezza di quello che facciamo ma anche di quello che forse è necessario per il futuro fare e poi sempre sulla questione social media ed educazione in questo ambito forse ancora di più si vede la debolezza di un certo cammino. Accoglienza e integrazione migranti c'è anche qui una cura degli operatori ci sembra di poter dire non solo una cura nell'aspetto teorico ma anche nell'accompagnamento nella pratica e anche una certa volontà di vivere l'esperienza del servizio i legami con gli enti pubblici i punti di debolezza invece il lavoro con le famiglie ecco questo notiamo è una difficoltà un po' per forse ancora dei tentativi qui e là sparsi e non riflettuti ma anche per la complessità nell'agganciare queste famiglie e portare avanti dei cammini significativi ci sono belle storie ma forse ancora rare l'ultimo punto inserimento sociale lavorativo c'è un buon lavoro sempre di più con il raccordo con le aziende di integrazione e sensibilizzazione e poi questo tentativo almeno negli ultimi anni anche di raccordare di più il lavoro locale con il territorio ma locale anche con il nazionale di provare a pensare qualche cosa di nuovo di mettere in rete le tante opportunità che la nostra realtà salesiana ha che è sia l'oratorio che è l'aspetto più progettuale che è l'aspetto forse più della formazione professionale e punti di debolezza il lavoro preventivo rispetto ai NIT ecco penso che sia una difficoltà abbastanza condivisa l'agganciare anche se sappiamo che questo termine a volte è così ampio che è anche difficile ormai da definire e poi la sfida del ripensare anche l'oratorio come un hub rigenerativo qui e là abbiamo dei tentativi però vediamo ancora forse una difficoltà culturale nel pensarci bene buona serata a tutti ecco noi l'occasione di questo progetto di costruzione al basso di questo documento ha dato l'occasione alla nostra ispettoria di risederci di nuovo insieme come coloro che operano nel sociale noi siamo in una situazione un po' atipica rispetto agli altri territori non abbiamo un comitato territoriale perché abbiamo fatto la scelta di mettere insieme quanto già si viveva ovvero un ambiente pastorale come quello delle opere sociali marginazione e disagio aveva già una forma di incontro ispettoriale divisa in una commissione poi la consulta ovvero tutte quelle opere salesiane che già sono operanti nell'ambito del sociale se è vero che è una dimensione trasversale che attraversa tutte le nostre case è pur vero che ci sono alcune case dove diciamo così il tema dell'attività con giovani in difficoltà emerge di più quindi dopo scuola centro di urno comunità educative residenziali e comunità per minori questo vuol dire che nel Triveneto ci sono 30 case poi ci sono 15 dopo scuola 4 centri di urni 4 comunità e 2 comunità invece per minori stranieri abbiamo messo insieme queste persone che lavorano in modo specifico su questo fronte e abbiamo riattivato un tavolo di dialogo e di confronto per giungere anche una forma condivisa e comune del nostro modo di essere presente nel sociale non abbiamo associazioni altre che fanno parte del territorio quindi anche per capire un po' anche l'intervento che farò adesso allora proprio a partire dal lavoro di quest'anno alcuni spunti che ci sono stati utili punti di forza trasversali a prescindere dagli ambiti dei cinque ambiti di riferimento presentati prima l'aver ripreso ad incontrarci con regolarità però anche con un mandato chiaro il ridirci ricondividere l'identità la missione le forme del coinvolgimento le pratiche educative che sono in atto al fine di custodire diciamo così una modalità salesiana di essere inseriti nell'ambito sociale tutto questo con il compito che ogni comunità aveva di scrivere il progetto educativo pastorale della propria opera così come anche tutti gli altri ambienti delle case scuola oratorio formazione professionale un altro passo positivo un punto di forza di quest'anno è la formazione condivisa sempre in correlazione con tutte le altre case salesiane sulle dimensioni pastorali ovvero che tu sia in un oratorio che tu sia in una casa famiglia in una scuola ecco sei chiamato ad accompagnare un giovane che ti viene affidato affinché possa crescere in una visione completa integrale della persona quindi in tutte le sue dimensioni ecco ragionare che cosa significa accompagnare dal punto di vista educativo culturale piuttosto che umano relazionale anche quei ragazzi più in difficoltà ecco è stato fruttuoso interessante anche per ridirci cosa ci sta a cuore terzo passaggio il confronto su alcune sfide ecco notiamo che la tenuta degli educatori il continuo turnover che ci può essere la loro formazione oppure le modalità contrattuali con cui noi accogliamo poi le persone che condividono con noi attraverso la loro professione ecco sono temi importanti perché non solo dicono il benessere della persona che lavora ma rendono anche possibile o meno poi un servizio e poi è stato interessante il fatto che si è attivato in modo dopo gli anni del covid ovviamente lo scambio e la visita tra le varie echipe educative nelle case in cui si opera nel sociale invece come criticità abbiamo fatto emergere il lavoro diciamo così di organizzare la speranza ha fatto emergere come territorio questi punti un po' più di lavoro la complessità educativa i ragazzi non sono facili se è vero che comunque tutti possono tirare fuori il meglio però le sfide educative che abbiamo davanti sono impegnative e i bisogni educativi sono sempre più specifici quindi bisogna essere competenti per poterli affrontare e accompagnare il rapporto con gli altri soggetti servizi sociali le asle di riferimento tribunali ecco non sempre c'è conoscenza del lavoro o delle sfide che ci sono sul campo l'altra sfida è quella di far conoscere quello che facciamo nel territorio alle scuole alle aziende agli altri enti educativi che si trovano a condividere lo spazio e il territorio in cui siamo inseriti dicevo prima non solo il turnover degli educatori ma anche il burnout cioè dopo 2-3 anni solitamente un educatore qualcuno dice già è stato bello però anche basta oppure la fatica della tenuta dei ragazzi penso al servizio cilio universale abbiamo finito le selezioni si partirà ecco pensate che avevamo abbiamo raggiunto 130 domande si sono presentate sono presentati 100 giovani per i colloqui adesso vediamo poi quanti partono quindi c'è diciamo un'emoragia di giovani che faticano poi ad assumersi la responsabilità del vivere fin in fondo l'impegno e portarlo avanti circa il progetto di scrittura del basso ci ha aiutato a cucire sempre di più un disegno ispettoriale su come intendiamo essere salesiali all'interno della dimensione sociale storicamente diciamo che noi non siamo ancora tanto attrezzati o abituati a lavorare per corsi concorsi bandi ecco perché non so se si possa dire così fortunatamente o storicamente c'è ancora molto un rapporto diretto con le istituzioni e un riconoscimento più facile ecco meno difficoltoso ecco meno istituzionalizzato attraverso proprio la partecipazione a bandi gare e concorsi però questo ci rende anche un po' meno caldi al tema della riforma del terzo settore per la quale stiamo un po' facendo i passi necessari per essere anche noi un po' più strutturati su questo bene buon pomeriggio a tutti mi allego a quello che diceva Don Michele anche la nostra situazione ispettoriale è un po' nomala rispetto agli altri comitati la nostra ispettoria parte da San Marino Basso e sale fino alla Svizzera per cui passando l'Emilia Romagna e anche dalla Lombardia non abbiamo ancora una forma e questa è una sfida importante che è quella di una forma giuridica anche della presenza dello stare in Salesiani per il sociale parto da alcuni punti di forza che sono partiti dal congresso internazionale ma poi grazie proprio anche a questo percorso ci hanno aiutato intanto a trovarci a riflettere e questo è stato un punto forte di confronto non solo con le realtà salesiane ma anche con altre enti che storicamente sono dediti all'attenzione ai giovani più poveri sul servizio civile un elemento positivo è sicuramente l'esperienza che tanti ragazzi fanno di protagonismo nelle nostre realtà scuole oratori formazioni professionali i momenti formativi che sono curati non solo dal centro ispettoriale ma anche dal centro di orientamento e questo porta anche a delle scelte belle di vita vocazionali dei ragazzi che fanno il servizio civile a volte nell'inserimento nelle scuole a volte come educatori a volte come scelte di vita personali la fragilità sicuramente è un elemento che abbiamo visto di discontinuità per cui a volte di interruzione del percorso o a volte proprio di fatica di tenuta sul tema legato al percorso che abbiamo fatto usciva una sfida legata alla nostra presenza nel tema della residenzialità storicamente c'erano delle comunità educative ne rimangono alcune familiari questa è una sfida importante per la nostra ispettoria e questo percorso ci ha dato anche occasione di confronto con le altre ispettorie penso ai nostri uffici che sono stati in Veneto e in Piemonte e questo ci ha dato modo anche di confrontarci con altre realtà e questo è stato un elemento positivo quello che poi è uscito è legato anche al tema legato all'inserimento lavorativo il bel dialogo che c'è tra la formazione professionale e le nostre realtà ci aiuta a creare una filiera bella anche su tutto il tema della mobilità per cui penso anche a alcuni accordi che in questo momento stiamo prendendo con carità sambrosiana nella logica proprio di un'accoglienza che poi diventa anche inserimento e accoglienza sulle criticità il primo elemento mi piace sottolinearlo organizzare la speranza un tema importante che è uscito è quello proprio di darsi un'organizzazione per cui questo è una sfida importante che in questo momento vogliamo prendere bene buonasera a tutti mi piace fare una premessa che è proprio la fotografia di quello che abbiamo sperimentato con Don Antonio Carbone l'incaricato dell'immarginazione e il disagio quando ci è stato chiesto di iniziare questo percorso e dico con tanta sincerità e tanta onestà che all'inizio non avevamo tutto questo entusiasmo perché abbiamo visto questo percorso come un'ulteriore cosa da fare però devo dire sempre con la stessa onestà che al termine di questo percorso abbiamo visto la positività e come questo appuntamento che abbiamo vissuto su Bari in parte anche con i giovani del servizio civile è stato davvero un momento bello importante per la vita dell'ispettoria mi sembrava onesto dire questo proprio perché nel corso del tempo abbiamo potuto sperimentare anche la bellezza che questo percorso ci ha permesso di fare mi piace partire dalle criticità per finire nella positività una prima criticità che abbiamo vissuto all'interno di questo percorso è legata alla conformazione tipica del nostro territorio già nella fase organizzativa insieme con Don Francesco ci siamo chiesti più volte come organizzare l'incontro un incontro più incontri legato proprio alla conformazione del territorio prima sentivamo parlare della Calabria ecco ci vogliono due ore non solo per andare a scuola ma anche per raggiungere da una casa salesiana all'altra e quindi questa difficoltà che è tutta nostra è una difficoltà che permane e che in qualche modo crea delle fatiche a livello associative crea delle fatiche anche a livello di comitato e in questo emerge quella che diciamo così la fatica più grande che abbiamo vissuto all'interno di questo percorso è una delle fatiche più grandi che vediamo sul nostro territorio che è quella della partecipazione non so adesso se siamo il comitato che ha più deleghe in questa assemblea però probabilmente è così perché ci piace in qualche modo aderire ci piace essere presenti sulla carta facciamo fatica a partecipare e credo che anche questo percorso che abbiamo vissuto insieme ha messo chiaramente in luce questa difficoltà difficoltà che è legata anche alla natura alla storia del nostro comitato sul nostro comitato abbiamo dei soci storici diversi soci fondatori che forse hanno bisogno di provare a riappassionarsi alla vita associativa e forse anche questo percorso dal basso in qualche modo ha messo in chiaro ha messo in luce il desiderio e la voglia di partecipare da parte di tutti i soci per quanto riguarda le positività sembra un gioco di parole ma è questo una prima positività è la partecipazione ma non l'hai detta prima tra le negatività sicuramente questo percorso ha messo in chiaro la fatica a partecipare ma questo percorso ha messo in chiaro anche il desiderio di partecipare con la possibilità di coinvolgere tutta una serie di soggetti che normalmente non sono pienamente partecipi della vita del comitato e questa cosa ha permesso in qualche modo di sdoganare il tema rispetto ai pochi esperti si diceva diceva prima Don Stefano nell'introduzione che il cammino che sta facendo Salesiani ci sta aiutando a capire che non è un ambito di nicchia ma è un ambito centrale all'interno della missione Salesiana e credo che una delle positività di questo percorso ci ha aiutato a dialogare su questo tema con persone con soggetti che ordinariamente non erano coinvolti e quindi questa partecipazione è stata assolutamente positiva un altro aspetto mi piace richiamare tra le positività del percorso che abbiamo vissuto e l'esperienza della sinodalità ecco credo che e questa cosa mi è stata proprio anche rimandata da diversi che hanno partecipato all'incontro di Bari la bellezza di sedersi attorno a un tavolo persone più esperte meno esperte consacrati e laici per preoccuparsi ecco della missione attraverso le varie sfaccettature dei cinque ambiti questa cosa qui è stata una cosa molto apprezzata sia da chi ha tanti anni di esperienza nel campo sia da chi ha meno esperienza ma in qualche modo ha il desiderio di entrare in questa dimensione in qualche modo questo processo ha permesso di iniziare ad affacciarsi su questo mondo nuovo Buonasera a tutti Domenico dalla Sicilia Anche io faccio una brevissima premessa questo processo che quest'anno Salesiani per il sociale ha avviato ha fatto smuovere le acque anche in Sicilia nel senso che seppur a differenza della realtà della Lombardia dell'Emilia Romagna noi siamo più compatti quindi l'isola rende un po' più compatti seppur nella complessità del nostro territorio però in realtà questo processo ha creato un po' di movimento tra le nostre realtà associative questo è sicuramente un fatto positivo che in qualche modo ci ci proietta a fare tutto un percorso un cammino che intendiamo fare come comitato perché la difficoltà una delle difficoltà che incontriamo è quello di non comprendere pienamente il valore e il significato di questo comitato all'interno della nostra realtà seppur esiste da tanto tempo così come diceva Don Giampaolo prima con soci che da una vita sono fondatori di questo comitato ecco abbiamo la necessità sentiamo la necessità di riscoprire il valore e la validità di questa di questa realtà tre cose ci sembrano così di condividere che abbiamo condiviso all'interno del nostro della nostra realtà del comitato Sicilia beh innanzitutto il fatto che noi come realtà del comitato Sicilia a partire da questi stimoli che abbiamo ricevuto e che stiamo continuando a ricevere abbiamo pensato noi ma l'ispettore in realtà ha pensato a una ristrutturazione di questo comitato che sia più immediato concreto che sia una realtà il più possibile anche operativa vicina alle realtà della Sicilia il fatto di pensare un salesiano un presidente ma anche un segretario esecutivo uno a Palermo e l'altro a Catania che fisicamente sono distanti ma concretamente vivono un continuo dialogo questo è molto positivo risulta essere una dimensione che stiamo cercando di compattare e di vivere noi per primi facendolo vivere questo dialogo anche agli altri e l'ispettore ha insistito molto su questo aspetto ha dato proprio questo taglio forte di collaborazione di concretezza tra le realtà e anche tra le persone quindi le persone che hanno una buona intesa probabilmente questo riescono riusciranno anche a far intendere tutti gli altri un altro aspetto positivo su cui si sta investendo molto è il recupero e la cura delle relazioni con le realtà associative della Sicilia seppur siamo tutti nello stesso territorio seppur facciamo tanto bene il rischio di disperderci è dietro l'angolo e anche nei rapporti tra di noi a volte potrebbe esserci qualche difficoltà quindi questo recuperare la relazione questo curare i rapporti sta aiutando molto un terzo aspetto che ci sembra molto significativo sottolineare dal punto di vista della Sicilia è dare credito e soprattutto dare fiducia alle indicazioni che ci provengono dal nazionale e quindi anche a questo tipo di lavoro che ci stanno chiedendo di fare questo processo di programmazione dal basso ecco bisogna dare fiducia a coloro che lavorano qui al nazionale perché sicuramente c'è un disegno di bene che ci orienta verso una prospettiva in qualche modo di salvezza perché abbiamo bisogno di essere anche salvati da questo punto di vista salve a tutti Don Emanuele dall'Italia centrale noi abbiamo avuto il privilegio di vivere cinque incontri di questo processo Genova Roma Ancona Scandicci e Sassari che avete visto dalla stringa ha aperto ha inaugurato questo processo con un fulmine che ha beccato l'aereo del presidente mentre veniva a Sassari è salvo è salvo che però è stato subito un approccio al territorio insomma bello potente Sì diverse cose che ha detto soprattutto Do Stefano che è stato un po' più analitico le abbiamo riscontrate anche noi in questi incontri dei territori e io mi soffermo su alcune cose un po' più generali di ampio respiro quando ci è stato proposto questo processo così abbiamo cominciato a pensare come incarnarlo non abbiamo avuto dubbi sul fatto di fare degli incontri che erano di carattere regionale o comunque al massimo due regioni vicine come è stato per le Marche e l'Abruzzo perché appunto la conformazione territoriale ci suggeriva questo e anche perché ci sembrava in continuità con qualcosa che già l'anno precedente avevamo iniziato inaugurando questi incontri regionali che per noi sono veramente un momento e una strategia che sta diventando importante perché ci rendiamo conto che se da una parte è importante e quindi cerchiamo anche di farlo a volte incontrare tutta la realtà associativa l'incontro regionale permette di andare molto più nel concreto anche della conoscenza delle persone e anche di immaginare progetti insieme o anche dialoghi e interlocuzioni con le istituzioni come è avvenuto per esempio in Liguria e in Toscana proprio come conseguenza di questi incontri regionali e un'altra cosa bella che succede in questi incontri è che noi ci possiamo permettere di invitare anche in realtà salesiane che non sono soci di salesiani per il sociale e quindi di tirarle dentro a una riflessione sui giovani poveri l'attenzione ai ragazzi più in difficoltà che ovviamente non possiamo raggiungere in un'assemblea come questa in cui invitiamo i soci fondamentalmente non invitiamo appunto case che in questo momento non sono soci e questo sta generando un bel processo unito a tante altre variabili che ovviamente ci sono e un'altra cosa molto positiva di cui anche il processo ci ha fatto rendere conto è che l'aver insistito l'aver scelto come ispettoria in questi ultimi anni 6, 7, 8 anni di promuovere l'attenzione ai ragazzi più poveri soprattutto attraverso dei centri semiresidenziali radicati in modo particolare negli oratori ci sta permettendo di creare a livello ispettoriale una bella rete su questo con belle contaminazioni belli aiuti tra gli uni e gli altri e anche uno stile salesiano di gestione e di contatto con questi fondamentalmente poi con i ragazzi e anche per noi il congresso mondiale anche se insomma non era parte del processo dal basso però è stato un momento importante siamo stati molto così contenti di partecipare sia come numero sia anche come qualità di quello che abbiamo ricevuto in quell'occasione una criticità che è emersa attraverso questo processo è quella del sincronizzare i vari livelli associativi c'è un livello locale quello delle singole sedi dei singoli soci c'è un livello ispettoriale che è quello del comitato c'è un livello nazionale ecco mi viene da dire che spesso noi percepiamo che chi sta a livello locale fa fatica a capire le differenziazioni che stanno negli altri due livelli a volte si genera pure un po' di confusione e ovviamente quest'anno noi abbiamo dato priorità assoluta al processo che era stato scelto a livello nazionale questo però ha significato rallentare alcune cose che avevamo iniziato come territorio dell'Italia centrale quindi abbiamo messo in stand by alcune riflessioni che avevamo fatto l'anno precedente e che riprenderemo poi dopo e quindi questo è un po' fisiologico un po' forse vediamo delle prospettive di miglioramento anche in questa cosa qua mi fermo intanto grazie veramente poi chi ha scritto anche su questo una restituzione a noi di quello che avete detto io ritorno sul fatto del documento cioè quello che loro hanno detto alcune dimensioni sono individuate nel documento altre no e quindi le integreremo però visto che il documento è espressione di un mandato preciso comunque della Cisi degli ispettori del direttivo il direttivo ha un ruolo importante anche in questo invito veramente tutti a leggerlo con attenzione per capire anche questo linguaggio comune perché lo sforzo di riflessività secondo noi è importante anche poi per la linea di azione ovviamente come ha ben detto anche Don Emanuele ma quasi un po' tutti su questo mantenendo poi la differenziazione dei vari livelli però le linee di azione condivise la partecipazione dal processo partecipativo sono tutti elementi che hanno costretto noi a un grande sforzo di sintesi ma c'è veramente tanta tanta ricchezza che vi diamo non solo a leggere ma a studiare a rifletterci e a lavorarci proprio per avere un minimo almeno comune pur rispettando le differenze territoriali ecco ritornando su questo secondo punto il documento presenta come dicevamo delle linee di azione ecco noi condivise sono molte sono tante anche qui sono linee di azione che abbiamo mantenuto volontariamente generali perché occorrerà fare uno sforzo per trasformarle in prassi in praticità e questo deve essere fatto dai territori ma anche attraverso l'ausilio di un livello associativo di tipo nazionale ecco su questo punto un invito come domanda ad ognuno di voi quali sono secondo voi per il futuro gli elementi da valorizzare rispetto a queste linee qualche elemento su cui investire se per voi è stato utile ecco su questo punto una domanda un po' più flash della precedente la risposta proprio perché vogliamo lasciare anche un po' spazio all'assemblea con eventuali domande anche cattive no scherzo ai delegati e a voi per interagire anche un po' con loro ripartiamo da Stefano una premessa che mi piace dire è questa credo che ogni ambiente pastorale faccia bene a ripensarsi ma deve sempre ripensarsi collegato agli altri ambienti pastorali perché se no una spiritualità così ricca come la nostra rischia di perdersi degli elementi importanti e l'altro elemento è mi è piaciuto riprendo il termine che ha usato mi sembra il nostro futuro ispettore l'aspetto della sinodalità no? Papa Francesco ha dato una definizione bene di sinodalità e soprattutto ci ha dato uno stile credo che anche un documento debba chiedersi senza cadere nello spiritualismo che cosa lo spirito ci chiede ecco perché se no il rischio è che la complessità gli studi la raccolta dei dati ammazzi un po' il pensiero le sfide che noi vediamo sono il confronto con gli OLP è un lavoro forse di maggiore strutturazione di chi deve accompagnare questi ragazzi è un'opportunità complessa è stata detta però è anche un'opportunità per bocchi vocazionali in senso molto ampio però riteniamo che ci deve essere forse un lavoro di maggior riflessione un secondo elemento è un pensare e un analizzare bene con un'analisi dei bisogni sui territori e poi continuare a coniugare sempre di più cosa che mi sembra stia avvenendo bene in questi anni la formazione tra locale e nazionale una terza sfida è l'aspetto della mappatura anche per fare un'advocacy un po' più pregnante un po' più condivisa non tanto per polemizzare ma per proporre qualcosa di positivo anche educativamente a livello locale italiano una quarta sfida continuare sempre di più la formazione salesiani laici e chiedere forse anche ai salesiani di presiedere alcuni tavoli di pensiero di orientamento che sono importanti non delegare o non restare fuori perché il rischio poi di subire un qualche cosa e non riuscire invece a dire la nostra ultimo elemento è l'aspetto forse lavorativo scolastico lavorare molto sulla coprogettazione in modo da tentare di prevenire tutto ciò che è possibile allora alcune prospettive la prima è sicuramente il far maturare nella consapevolezza della trasversalità del tema della emarginazione e disagio quindi del sociale come presenza costante e stabile in tutti gli ambienti pastorali in cui ci troviamo ad operare e il secondo è l'investimento formativo per coloro che vi operano fare in modo che la salesianità del servizio non sia mai seconda e così insomma che se c'è non c'è non fa differenza ma che sia identitaria e carismatica dare il tono al tipo di attività che svolgiamo per questo la formazione salesiana e laici condivisa e poi dare maggior stabilità al ritmo degli incontri e la condivisione del lavoro assumendo anche una forma giuridica che ci consenta di custodire questo però una forma giuridica che non sia semplicemente funzionale al tema del terzo settore ma che sia invece che abbia come obiettivo la custodia di un vivere e lavorare insieme avere una figura di delegato del sociale che possa girare nelle opere e quindi accompagnare in maniera costante coloro che poi sono sul campo studiare una forma di riconoscimento contrattuale che preveda una certa gradualità e premialità degli educatori al fine di evitare il continuo esodo che non vuol dire solamente pagare un po' di più ma studiare anche forme che consentano una gradualità in base a quando uno inizia i titoli che ha i turni una sorta di organizzazione interna già in quello che già c'è e poi forse anche poter dare qualcosa di più e favorire lo scambio di impostazioni e pratiche educative per avere una forma sempre più condivisa e salesiana di essere sociale nel Triveneto fare in modo che la forma giuridica che si assume consenta anche di fare massa critica di fronte alle istituzioni per poter dare anche peso maggiore a quello che si fa far cogliere la preziosità dell'esperienza del servizio civile universale come trampolino di lancio per la vita come si inserisce tra l'inizio del mondo lavorativo dello studio ma anche come occasione per misurarsi forse per la prima volta con una responsabilità di fronte al mondo esterno far cogliere il sociale come luogo privilegiato per coinvolgere giovani e famiglie sul tema del volontariato quindi non solo l'oratorio come luogo di volontariato ma anche i servizi sociali e ultimo mettere sempre più in rete le opere sociali con il territorio la scuola e le aziende noi individuavamo queste sfide la prima la strutturazione di enti capaci di fare da cabina di regia cosa buona che abbiamo respirato in questo percorso di continuare la formazione delle nostre comunità educative nella cultura dell'inclusione e dell'attenzione ai giovani ma allo stesso tempo la formazione di salesiani ma anche di laici capaci di dare continuità e profezia a questo ambito progettisti coordinatori di comunità educatori professionali e poi il protagonismo giovanile nel coinvolgere i giovani nel servizio civile per quanto riguarda l'ambito delle sfide avendo parlato tanto di partecipazione non potevo non andare a pescare all'interno dell'ambito 2 che fa riferimento alla formazione della comunicazione della rete associativa in Italia e in Europa perché sentiamo proprio il bisogno che questo venga potenziato potenziato con un giusto equilibrio il giusto equilibrio credo che sia dato anche dalla seconda linea di azione linea di indirizzo che chiaramente non va a sostituirsi al locale ma in qualche modo fa emergere dal locale la capacità di dialogare sul territorio dico questo perché credo che il percorso che si è attivato in qualche modo può creare delle relazioni nuove vedi anche la presenza degli uffici sui territori che permettono non di de-responsabilizzarsi non di delegare ma di vivere quella che è la spiritualità della presenza che è tutta salesiana che credo che sia una spiritualità della presenza che ci chiede di essere accanto ai ragazzi ma ci chiede anche di essere capaci di potenziare questa presenza sui diversi tavoli un po' come diceva Don Stefano proprio per dire che questa rete diventa importante anche nella misura in cui diventa visibile rispetto alle istituzioni quindi credo che come territorio questa sfida legata alla rete e legata alla presenza diventa vitale per l'immediato futuro noi ne abbiamo individuate tre di chiave su cui investire il primo sull'ambito formativo è quello di rafforzare le competenze umane e professionali del nostro territorio quindi di coloro che lavorano all'interno del nostro territorio e una seconda chiave su cui investire e la necessità di riprendere il valore aggiunto che l'esperienza salesiana può apportare ai ragazzi del servizio civile cioè i ragazzi fanno servizio civile con i salesiani a livello formativo noi questo lo diciamo in maniera molto forte e con insistenza voi avete scelto di fare servizio civile con i salesiani di Don Bosco che ha uno specifico e che ha delle caratteristiche e che c'è dietro una pedagogia e un carisma specifico che fa bene comunque anche ai ragazzi stessi la stessa cosa vale anche per tutta la frontiera del disagio giovanile cioè questo lo si fa con i salesiani e quindi questa attenzione che i salesiani hanno nei confronti del disagio giovanile e quindi dell'esperienza salesiana e vogliamo riprenderla ecco questo valore terzo riprendere anche il contatto con le istituzioni a vari livelli che a volte un po' si rivela sfilacciato nella confusione mi permetto di dire a livello personale politica a livello regionale nel nostro territorio riprendere i contatti e poter dare anche il nostro apporto di educatori di pedagogisti di consacrati che sono a servizio dei giovani soprattutto dei giovani più poveri una prima sfida in realtà in continuità con il passato lo accennavo anche prima che è quella di continuare a insistere a crescere nella coscienza nella consapevolezza che l'attenzione ai ragazzi più poveri è carismatica al di là dell'ambiente educativo specifico in cui si incarna e su questo continuare il percorso che abbiamo iniziato già da tanti anni che poi è riflesso nel progetto organico ispettoriale nel progetto educativo pastorale poi tre cose più specifiche emerse proprio dal processo dai territori una è la necessità nell'ambito del servizio civile di creare una cultura del servizio civile perché appunto il fenomeno ci dice magari meno giovani oppure che si disperdono man mano che passano i mesi ha fatto un esempio massimo ma più o meno stiamo tutti nella stessa barca anche se magari poi i numeri cambiano ecco sentiamo l'esigenza di fare in modo che i giovani e comunque le istituzioni la società civile conosca questa opportunità al di là del mese in cui magari è aperto il bando e in questo ci sentiamo supportati anche dal percorso nazionale che si sta facendo è emerso comunque anche nel nostro territorio e poi un'altra sfida molto specifica è il lavoro con le famiglie non solo le famiglie dei ragazzi che appunto sono inseriti in alcuni tipi di percorso ma proprio delle famiglie delle comunità educativo pastorali che possono essere di sostegno a questi ragazzi che magari hanno o non hanno delle famiglie o hanno delle famiglie molto ferite molto ammaccate e sogniamo questa cosa e ogni tanto emerge nei territori di coinvolgere invece quelle famiglie non perfette però belle che abbiamo nelle nostre comunità e che a volte si lasciano interpellare e si mettono in gioco a fianco di questi ragazzi altre volte ancora non scatta questa molla e quindi questa è un'altra prospettiva di futuro che abbiamo abbastanza chiara e poi l'ultima è il crescere nella consapevolezza di come il servizio civile ma anche il cosiddetto PCTO l'alternanza scuola-lavoro sono degli strumenti che noi abbiamo davanti a noi di cui non sempre facciamo uso diciamo così ma sono strumenti preziosi per arrivare a raggiungere tanti giovani che in altri modi non entrerebbero nelle nostre case e poi a lavorare insieme a loro a camminare accanto a loro e anche a contribuire a quella cultura della solitarietà della giustizia della pace di cui siamo promotori e che su cui i ragazzi comunque sono molto sensibili cioè una corda che li attira se noi sappiamo suonarla bene bene grazie a tutti anche per essere stati nei tempi abbiamo previsto questo momento come anche se qualcuno volesse fare qualche domanda anche alla luce di quello che è stato detto rispetto a questi punti forza sul documento non so se Renato vedo che Renato ma il direttore generale non può fare domande ah ok bene siamo contenti una domanda qualificata è più una curiosità grazie intanto di quello che ci avete raccontato e di quello che abbiamo vissuto insieme quest'anno è una curiosità rispetto ecco alla possibile prosecuzione di un cammino così di dialogo e di ascolto che cosa potrebbe contribuire a migliorare la continuità di questo percorso partecipativo e di dialogo tra diversi livelli della realtà associativa e dell'animazione di questa missione grazie chi vuole rispondere ne vogliamo raccogliere qualcun'altra se bene allora mentre pensano un'altra domanda se qualcuno ha una risposta immediata che mi viene è la partecipazione da parte dell'ufficio nazionale in modalità che poi potrà studiare l'ufficio alla vita ordinaria dei comitati dicevo prima quest'anno in qualche modo ci si è un po' allontanati per guardare la realtà in maniera più ampia e magari in futuro si riprenderà un cammino già avviato ecco la partecipazione a quei cammini in cui poi escono le vite concrete delle persone che partecipano delle realtà che partecipano mi sembra possa essere prezioso per chi fa un servizio nazionale in modo da crescere sempre di più in questo sentore di quello che c'è sul territorio poi dicevamo poco fa di dare fiducia alle indicazioni del nazionale cioè di metterci nella disponibilità di seguire quelli che sono le indicazioni che ci danno dal nazionale io personalmente ho notato e questo ci fa bene una vicinanza al nostro comitato può sembrare scontato però le telefonate del direttore i messaggi non eravamo più abituati quindi questa cosa secondo me va curata di più va potenziata di più perché i comitati hanno bisogno anche di sentire questa vicinanza concreta ma per me devo dire che siamo in un clima culturale dove c'è bisogno di creare unità nel senso che in ogni ambiente la tendenza è proprio presa dalle fatiche un po' presa anche dalle idee estremizzate nostre se non ci obblighiamo a una certa continuità mettersi però anche nella testa che ci vuole tempo c'è linee che ci orientino però ci vuole tempo l'importante è la continuità un secondo elemento è secondo me dialogare fortemente con i delegati pastorali giovanile proprio perché sono dei processi se io penso alla nostra ispettoria che coinvolgono tantissimi operatori e dunque anche una mole di lavoro non indifferente che non deve andare a cozzare ma deve integrarsi ma velocemente penso che la parola accompagnamento sia sintetica e ci aiuti a capire cioè il fatto di essere vicini dal centro verso il locale perché così funziona qualsiasi tavolo e quindi la visita di chi è chiamato ad accompagnarci dall'altra parte ecco il sentirci visitati porta anche a conoscerci un po' di più rende anche più facile poi dopo il riconoscere l'aderire costruire insieme percorsi vari l'ultima cosa è quello che c'è adesso Don Stefano che aveva detto anche l'ispettore Don Stefano in inizio cioè che cogliere questo tempo storico che rimette insieme pastoralio giovanile e disagio come l'inteso anticamente non più di alcuni ma come parte integrante dell'azione pastorale della congregazione insomma quindi cavalcare questo onda favorevole che ci aiuta a tenere insieme le parti sì anche secondo me io penso l'accompagnamento anche il respiro un po' più ampio a volte sia le realtà locali che quella spettoriale a volte è un po' presso anche dall'urgenza io penso anche le ultime mail Renato che hai mandato danno un respiro più ampio anche di possibilità quindi grazie sì alle varie cose che sono state dette aggiungo una parola che è la parola gradualità che congiungerei fortemente con la continuità nel senso che abbiamo abbiamo percepito l'importanza di questa vicinanza che dobbiamo immaginare nel tempo secondo una progressività che ci aiuta a realizzare quello che sentiamo che per noi è più importante aggiungo tutto il discorso della presenza degli uffici sul territorio è una cosa che ci fa bene e forse fa bene anche agli uffici nazionali per capire per chi lavora nel senso che vedere poi i ragazzi che beneficiano dei servizi credo che sia anche un aspetto bello motivazionale anche per loro io sono l'altro capo della Sicilia rispetto a Palermo allora credo che innanzitutto la prima novità è vedere voi qui seduti per chi magari per me che sono un po' più grande da vent'anni veniamo a Roma per condividere il lavoro di Salesiani per il sociale vedere gli incaricati tutti insieme che parlano è già questo mi sembra una grandissima novità che non è cosa da poco quindi primo punto il secondo punto è che il sociale inevitabilmente lo sapete bene richiede delle professionalità adeguate e capaci di reggere sia l'impatto con le situazioni nel senso che bisogna avere titoli competenze esperienze e poi voi non potete fare tutto quindi il discorso degli uffici la questione di costruire anche una fiducia verso i laici Don Giovanni Don Domenico ma anche qui a Roma si respira quest'aria che è inevitabile che i Salesiani non potete fare tutto perché ci vogliono anche competenze particolari andare alle istituzioni stare tutta la mattina dietro la porta dell'assessore fin quando non ti riceve e non ti dà quel po' di disponibilità ad ascoltare quello che c'è da dire quindi mettere insieme ecco questa è stata la richiesta che ho già fatto a Nicoletta mettere insieme gli aspetti tecnici delle segreterie la progettazione gli incaricati di PG gli incaricati di emarginazione e disagio questo potrebbe essere un'altra novità capisco che è bella complicata ma lancio la proposta proprio perché adesso la mensa va tutto unita non si può fare più il ragionamento che si faceva prima come diceva lei perché si divide la pastorale giovanile con l'emarginazione e il disagio bene grazie non so se c'è qualcosa da più una riflessione di respiro se qualcun altro vuole dire qualcosa se no ok chiudi o vuoi farlo ok così chiudevi ti manda all'assemblea innanzitutto grazie perché stare qui non è scontato con i mille impiegni che avete avete ritagliato un tempo però era importante anche per noi ascoltarvi per capire l'impatto del processo sui territori e mi sembra che è stata una bella una bella cosa ecco certamente ci sono delle situazioni che vanno monitorate le avete elencate avete elencato il discorso della gradualità il discorso anche dell'insieme del non sovrapporsi e credo che appunto è un processo complesso questo è indubbio ma è un processo dove non possiamo esimerci di compierlo per le cose proprio che voi avete ribadito cioè per l'unità intesa non soltanto come dimensione ambiente non soltanto come pastore giovanile ma anche come collocazione territoriale cioè essere una rete nazionale territoriale locale è molto faticoso è molto complesso però anche la bellezza di poterla coordinare nella misura in cui gli attori di questo processo i referendi di questo processo si coinvolgono come stanno facendo quindi questo è un grazie ma anche un invito a capire adesso come continuare insieme questo percorso perché comprendiamo che ogni territorio ha i suoi tempi i suoi ritmi ma è anche vero che come ci stiamo raccontando scusate il gioco di parole e la bellezza è proprio questa capire come nella complessità dei territori nei dinamismi dei vari territori mettersi insieme e raccordarci le figure amministrative le associazioni che stanno qui le associazioni che sono andate via ci dicono anche una scelta ben chiara che abbiamo fatto come salisieme per il sociale cioè quello di essere al supporto di un processo e di un progetto unitario quindi non di staccarci né di andare contro ma di andare con insieme e questo è un segnale positivo che credo che avete colto perché siete qui e così come credo che un processo bello è una cosa di indicazione bella è la dimensione fiduciale che Domenico ha sottolineato due volte cioè di fiducia perché ovviamente non andiamo insieme verso un burrone andiamo verso un sepolcro vuoto come dicevo prima all'inizio e c'è l'idea di poter insieme capire quale percorso di speranza poter proporre per i nostri territori per i nostri giovani per le nostre comunità ecco non vogliamo staccarci dalle comunità vogliamo stare con le comunità dentro le comunità con voi a fare dei percorsi di speranza insieme ecco non è semplice perché non è semplice ma credo che all'orizzonte di futuro anche rispetto alle sfide che soprattutto coinvolgeranno voi nella visita d'insieme che come consigli avete nell'autunno e certamente ci saranno delle indicazioni anche su questa tematica perché avere un'associazione nazionale di supporto alla dimensione così importante della passione giovanile ci permette anche di avere una visione unitaria rispetto a dei processi che stanno andando proprio verso quell'orizzonte quindi è un'opportunità che noi ci sentiamo di offrire noi credo anche voi insomma delle scelte che poi compierete io volevo dire anche un'altra cosa e chiudo anche agli associati che stanno qui che molto spesso forse le informazioni non sono sempre così chiare ma avete tutti notato che c'è un cambiamento evolutivo dell'associazione perché non siamo gli stessi di 30 anni fa neanche io forse 30 anni fa mi ricordo nemmeno se frequentavo l'oratorio dove c'era Don Pino non mi ricordo sinceramente però sicuramente 30 anni fa era diverso l'associazione oggi siamo chiamati certamente a stare dentro le comunità educative pastorali quindi in una progettualità già locale che risponde a un territorio che è ispettoriale o del comitato che risponde a livello nazionale con una gradualità sussidaria di intervento e lì dove non c'è la CEP un'associazione ha la responsabilità di costruire comunità e questo è imprescindibile perché l'associazione non può essere autoreferenziale non ha futuro non ha storia un'associazione ha senso se costruisce comunità cioè se sta al servizio di un bene comune maggiore ecco questo è un intervento che volevo fare proprio perché sollecitato da quello che avevo raccontato e anche da questa platea autorevole da questa assemblea autorevole che è appunto quella di Sareseveri Sociale non so se ci sono altre domande che possono in qualche modo sollecitare o siamo stanchi dopo insomma questa questa maratona lascio la parola ad Andrea anche perché stasera c'è una giornata non di Roma by night ma di lavoro da quello che ho capito quindi e da questo punto di vista noi vi ringraziamo e ovviamente quello che avete detto poi qualcuno già me l'ha inviato prontamente vi ringrazio anche della pazienza sono contento che dice dell'accompagnamento anche tutte le parole che avete detto a volte senza metterci d'accordo arrivavano le mail una dietro l'altra quindi mi rendo conto anche dello sforzo rispetto a questo e ovviamente in questi giorni ritorneremo sul documento grazie ancora è stata una giornata molto ricca e non so come procede adesso chiedo a Marta come a qualcuno cosa è previsto in questo momento ok dunque grazie grazie a tutti scusa le spalle allora alcune indicazioni tecniche la cena si svolgerà nel refettorio dall'altra parte del cortile quindi esattamente all'opposto di dove ci troviamo noi però seguite il flusso di persone chi lo sa faccia da capofila e le sale per gli incontri di questa sera seguendo sempre il cortile l'ingresso della scuola c'è proprio l'ingresso della scuola con l'ascensore primo piano fuori alle porte c'è il cartello con il nome del comitato quindi a chi serve la sala questa sera che ha bisogno di lavorare può andare le sale saranno le stesse anche per domani per il lavoro che ci sarà domani con i mediatori con i facilitatori nei gruppi tutto chiaro? la cena alle 8 sì comitato alle 21 comitato suo? non so se questi giovani presenti sono romani ma stasera voi esentati da tutto nel senso ok bene grazie a tutti e buona pausa grazie grazie